Ehi, come ti senti? Un infarto a 27 anni. Hanno detto che hai avuto un trauma cerebrale. Sono caduto da una scala e ho battuto la testa. Uno stupido incidente. Un incidente? La prepariamo per l'angiografia. Valium l'aiuterà a rilassarsi. Inseriremo un catetere nell'arteria femorale. Ted? Ha un altro attacco cardiaco? No, non credo. Il ritmo è normale. Si sente bene? Non stavate parlando di matrimonio, vero? No. Sono soltanto... Svenuto. POTS. Sindrome dell'attacchi cardia posturale ortostatica. La pressione crolla quando è eretto e torna normale quando è sdraiato. Era sempre sdraiato quando l'abbiamo misurata. L'ipotensione protratta potrebbe aver causato il collasso e tutto il resto. E l'affasia. Era seduto e lo hai fatto sdraiare per visitarlo. La pressione è salita e gli è tornata la voce. Non è stata la puntura a farlo gridare. E la POTS può essere provocata da infezioni virali o batteriche. Imbottitolo di fludro cortisone. Non hai letto il programma del corso di ceramica, vero? Sì. Tu lo hai letto? Di certo l'ha letto tua moglie. Sa che il tema della settimana è il 4 luglio. Si aspetterà qualcosa con stelle e paglietta. Grazie. Grazie. Grazie.